Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria, da me, dai miei capelli pettinati con le bombe a mano, dal mio giubbino da combattimento e dalla mia maglietta vintage della MTV Amstead, piccola squadra tedesca sconosciuta ai più della quale ho scovato questa maglietta portatami da una cliente che vive da quelle parti. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, questo video preparatevi perché sarà piuttosto lungo, piuttosto ostico e soprattutto, e soprattutto, tratterà un argomento decisamente pesantuccio, quindi prestate orecchio, stappatevi i padiglioni auricolari e soprattutto ascoltate bene che cosa abbiamo da dirvi io e l'amico Gianluca Bertozzi che mi ha gentilmente fornito, io oserei dire l'indispensabile ormai Gianluca Bertozzi che mi ha fornito, diciamo, dati e dritte per questo video. Allora, cari signori, scusate, mi metto gli occhiali, abbiate pazienza, purtroppo l'età avanza e comincio ad averne bisogno. Allora, cari signori, sturatevi bene le orecchie e ascoltate bene cosa abbiamo trovato io e l'amico Bertozzi. Allora, pecunia non olet, ovvero sia i rapporti tra le grandi corporation americane e Hitler. Allora, c'è un libretto che si chiama Profit über alles, le corporation americane ed Hitler, scritto da Jacques Powell e faremo un breve riassunto perché una visione di quegli anni è piuttosto sorprendente, fornisce una visione di quegli anni piuttosto sorprendente, anche se, come dire, le fonti sono da giudicare. Ma io e l'amico Bertozzi vi proponiamo queste considerazioni e dopo, come dire, controlleremo eventualmente insieme. Allora, negli anni venti molte corporation americane avevano effettuato importantissimi investimenti in Germania. Allora, prima della prima guerra mondiale, la IBM aveva insediato in Germania una sua filiale, la Dehomag, e la General Motors negli anni venti aveva preso il controllo del più grosso produttore di auto tedesche, ovvero sia la Adam Opel AG. La Ford aveva invece gettato le basi di un impianto succursale più noto come Ford Werk a Colonia. Altre compagnie, americane, contraevano società strategiche con compagnie tedesche. La Standard Oil del New Jersey, oggi Exxon, sviluppava collegamenti strettissimi con il trust germanico Ege Farben all'ora. Dall'inizio degli anni 30, una elite di circa 20 tra le più grandi corporation americane, tra cui DuPont, Union Carbide, Westinghouse, General Electric, Gillette, Goodrich, Singer, Eastman Kodak, Coca-Cola, IBM e ITT avevano rapporti con la Germania. Per ultimo, molti studi legali americani, compagnie di assicurazioni e finanziarie e banche venivano profondamente coinvolte in un'offensiva finanziaria statunitense in Germania. Fra questi il famoso studio legale di Wall Street, Sullivan e Cromwell e le banche JP Morgan, Oibo e Dillon, Reed & Company e così come la Union Bank di New York, di proprietà di Brown Brothers e Harriman. La Union Bank era intimamente collegata con l'impero finanziario e industriale del magnate tedesco dell'acciaio Thyssen, il cui apporto finanziario aveva permesso a Hitler di arrivare al potere. Alla faccia. Le avventure americane d'oltremare ebbero scarso successo agli inizi degli anni 30, visto che la Grande Depressione aveva colpito duramente in particolare la Germania. La produzione e i profitti erano precipitati in modo pesante. Comunque, sostenuto dalla potenza e dal denaro degli industriali e dei banchieri tedeschi come Thyssen, Krupp e Schacht, Hitler arrivava al potere nel gennaio 1933 e non solo la politica ma la situazione socio-economica mutava drasticamente. Improvvisamente, Oibo, le filiali tedesche delle corporation americane cominciarono a mietere profitti. Perché? Perché dopo la presa del potere da parte di Hitler i leader saffaristici con attività in Germania trovarono a loro immensa soddisfazione che la cosiddetta rivoluzione nazista conservava lo status quo socio-economico precedente all'arrivo di Hitler. Le stigmate del fascismo teutonico del Führer, come di ogni varietà di fascismo, era reazionaria di natura ed estremamente vantaggiosa per gli scopi dei capitalisti, alla faccia di quelli che vedono Benito e Adolfo come baluardi contro la tirannia del capitale. Hitler serviva agli interessi di questi deleganti e la sua principale iniziativa era stata di sciogliere i sindacati dei lavoratori e di schiacciare i comunisti e i tanti attivisti socialisti, sbattendoli in prigione e nei primi campi di concentramento che erano stati appositamente impiantati per accogliere la sovrabbondanza di prigionieri politici di sinistra. Eh, inoltre le imprese tedesche, comprese le succursali delle imprese americane, anche se non tutte, approfittarono di questa situazione e tagliarono, oibo, di netto i costi del lavoro. Ci pensate un attimo? Ad esempio la Ford-Werk riduceva i costi del lavoro dal 15% del volume di affari del 1933 a solo l'11% nel 1938. L'impianto della Coca-Cola ad Essen accresceva in modo considerevole la sua redditività perché sotto il regime di Hitler i lavoratori erano poco più che servi ai quali era proibito non solo scioperare ma anche cambiare lavoro. Ed erano costretti a lavorare più duramente e più velocemente mentre i loro salari erano deliberatamente tenuti ai livelli minimi. Alla faccia del benessere dei lavoratori, ma va beh. Infatti nella Germania nazista, cosa che molti non sanno, i salari effettivi si erano abbassati rapidamente mentre i profitti in corrispondenza erano accresciuti e non era possibile far parola alcuna di problematiche del lavoro e tantomeno cercare di organizzare uno sciopero senza che immediatamente si scatenasse una risposta armata da parte della Gestapo con il risultato di arresti e licenziamenti. Questo è stato il caso della fabbrica Opel della General Motors a Rüsselheim nel giugno 1936, come ha scritto dopo la guerra il professore e membro della resistenza antifascista della Turingia Otto Jensen. I dirigenti delle imprese della Germania erano felici che il terrore per il campo di concentramento rendesse i lavoratori tedeschi docili e mansueti come cagnolini e ripeto alla faccia del nazismo visto come libertà dalla tirannia del capitalismo. Ecco, i proprietari e i managers delle corporation americane con investimenti in Germania erano non meno incantati, e te credo, e se apertamente esprimevano la loro ammirazione per Hitler come erano usi fare il presidente della General Motors, William Knudsen, e il boss della ITT, Sostenes Behen, questo avveniva senza alcun dubbio perché Hitler aveva risolto i problemi sociali della Germania in modo tale da creare giovamento ai loro interessi, ovvero sia operai inculati e padroni contenti. Detta schietta com'è. La figliale tedesca di Ford, cioè sempre la Ford Werke che nei primi anni trenta era in perdita, lavorava in perdita, grazie ai contratti con il governo derivati dalla spinta hitleriana a riarmo, vedeva un aumento spettacolare dei propri profitti annuali, dai 63.000 marchi del 1935 al 1.287.800 marchi del 1939. La Ford non solo produceva per i nazisti nella stessa Germania, ma esportava anche autocarri parzialmente assemblati direttamente dagli Stati Uniti in Germania. Questi veicoli venivano poi completamente assemblati a Colonia ed erano pronti ad essere usati nel momento giusto nella primavera del 1939, quando Hitler occupava la parte della Cecoslovacchia che non gli era stata ceduta nell'infame patto di Monaco dell'anno precedente. Per giunta, negli ultimi anni trenta Ford aveva inviato in Germania materie prime strategiche, a volte tramite sue società consociate in paesi terzi. Solo all'inizio del 1937 queste spedizioni comprendevano 2 milioni di libri di gomma e 130.000 libri di rame. Insomma, state tanto a menare il torrone sugli aiuti americani a Stalin, però mi sembra che anche Hitler ha avuto la sua parte prima della guerra. La fabbrica Opel della General Motors a Rüsselsheim nei pressi di Mainz mieteva un successo ancora migliore, perché la sua quota di mercato tedesco dell'automobile balzava dal 35% del 1933 a più del 50% nel 1985, in due anni, e la succursale General Motors, che aveva perso denaro all'inizio degli anni trenta, divenne estremamente redditizia grazie al boom economico prodotto dal programma di riarmo di Hitler. Nel 1938 erano registrati profitti per 35 milioni di marchi, ovvero circa 14 milioni di dollari americani dell'epoca. E nel 1939, alla vigilia della guerra, il presidente della General Motors, Alfred P. Sloan, pubblicamente motivava il fatto di fare affari nella Germania di Hitler, sottolineando la natura estremamente vantaggiosa delle operazioni della General Motors sotto il Terzo Reich. Ripeto, da far leggere questa cosa a coloro che ancora dipingono Hitler e Mussolini come baluardi contro il capitalismo. Ancora un'altra corporation americana che aveva trovato un filone d'oro nel Terzo Reich di Hitler è stata la IBM. La sua filiale tedesca, la Dehomag, ha fornito ai nazisti la parecchiatura schede perforate, antesignano del computer, necessaria ad automatizzare la produzione. E con questo la IBM Germania realizzava molti soldi. Nel 1933, quando Hitler prese il potere, la Dehomag realizzava profitti per un milione di dollari e durante i primi anni del regime di Hitler versava alla IBM negli Stati Uniti qualcosa come 4 milioni e mezzo di dollari di dividendi e parliamo di milioni di dollari degli anni 30. Nel 1938, ancora in piena depressione, i profitti annuali si aggiravano sui 2,3 milioni di marchi. Nel 1939 i profitti della Dehomag aumentarono in modo spettacolare a circa 4 milioni di marchi, secondo Edwin Black. Allora, le corporation americane facevano il pieno di denaro nella Germania hitleriana e questa è la ragione e non il presunto carisma di Hitler. Per cui i proprietari e i manager di queste imprese lo adoravano. Perché Hitler gli faceva fare soldi. Tanti. Per contro Hitler e i suoi compagnoni si compiacevano di molto per le performance del capitale americano nello stato nazista. Infatti la produzione di materiale bellico da parte delle consociate americane onorava e addirittura superava le aspettative della dirigenza nazista. Allora, ovviamente gli americani, come dire, le aziende americane con questi notevoli guadagni continuarono a investire ulteriormente in Germania. La IBM costruì una nuova fabbrica a Berlino Lichtenfeld e allargò le sue strutture vicino a Stoccarda e aprì numerosi uffici succursali in tutto il Reich. E inoltre si lanciò anche in operazioni immobiliari a Berlino e dintorni. Conseguentemente a queste circostanze il valore del capitale di IBM in Germania era aumentato in modo considerevole e nel 1938 il valore della Dehomag, ripeto, la consociata IBM e la controllata IBM in Germania, era raddoppiato dai 7,7 milioni di marchi del 34 agli oltre 14 milioni di marchi. E, 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 E. Hitler come baluardo contro il capitalismo. Per il bene del popolo. Negli anni 30 il valore complessivo delle proprietà della Ford cresceva ad una rapidità eccezionale, passando dai 25,8 milioni di marchi del 33 ai 60,4 milioni di marchi del 39. Sotto Hitler, gli investimenti americani in Germania continuarono ad espandersi e al tempo di Pearl Harbor ammontavano a circa 475 milioni di dollari. E, ripeto, 475 milioni di dollari del 1941. Qualche miliardo di euro attuali, eh. Allora, e neanche l'antisemitismo turmava i rapporti tra le aziende americane e il nazismo, perché l'odio razziale profuso da Hitler non offendeva per niente la loro sensibilità. Dopotutto, il razzismo contro i non bianchi negli Stati Uniti rimaneva sistemico e l'antisemitismo era molto comune nella classe imprenditoriale. Nei club esclusivi e negli hotel di classe patrocinati dai capitani di industria, gli ebrei erano ammessi molto raramente e molti altri dirigenti delle imprese americane si dichiaravano apertamente antisemiti. Vedi ad esempio Henry Ford che fece pubblicare un libro intitolato L'internazionale giudea violentemente antisemita che venne tradotto in molte lingue. Hitler ne lesse la versione tedesca e in seguito ammise che il testo gli aveva fornito ispirazione ed incoraggiamento. Anche Irene Dupont, altro magnate americano era antisemita anche se la sua famiglia aveva avuto antenati ebrei e l'antisemitismo del sistema imprenditoriale americano assomigliava fortemente a quello di Hitler, il cui punto di vista sull'ebraismo era interconnesso intimamente con il suo giudizio sul marxismo. Come Arno Jay Mayer ha argomentato in modo molto convincente nel suo libro Why did the heavens not darken? Ovvero perché il cielo non si è oscurato? Bella domanda. Allora, Upton Sinclair nel suo libro The Fliver King ha descritto Henry Ford antisemita dichiarato come il propugnatore di un movimento fascista americano che si impegnava nel paese ad abbattere i rossi, a preservare gli interessi padronali, ad estromettere il bolshevico Roosevelt dalla casa bianca e tutti i suoi professori progressisti dalle case, dalle cariche di governo e a considerare il lecito penale degno della fucilazione, il parlare di comunismo o la proclamazione di uno sciopero. E questo dovrebbe far pensare certa gente su certe cose, ma lasciamo perdere. Ripeto, DuPont, sempre il solito, forniva generosi contributi finanziari per sostenere le organizzazioni fasciste presenti negli Stati Uniti, come la famigerata Black Legion, la cosiddetta legione nera, ed era anche coinvolto nei piani di un colpo di stato fascista a Washington. Eh, e continuiamo a parlare del fascismo e del nazismo come baluardi contro il capitalismo, per il bene del popolo. va beh, va beh, va beh, va beh, va beh, va beh, va beh. Allora, lo scoppio della guerra non turbò minimamente i rapporti tra l'economia, tra le corporation americane e la Germania. Anzi, i successi militari della Germania del 39-40 si fondavano su una nuova ed estremamente mobile forma di fare la guerra, la cosiddetta guerra lampo, la Blitzkrieg, che consisteva in attacchi estremamente rapidi e altamente sincronizzati dall'aria e per terra. Per intraprendere la guerra lampo, Hitler necessitava di macchine belliche, carri armati, autocarri, aeroplani, carburanti, oli per motori, benzini, gomme e sistemi di comunicazione per assicurare all'aviazione di colpire in tandem con i carri armati. E molto di questo equipaggiamento veniva fornito da imprese americane, soprattutto dalle affigliate tedesche delle grandi corporation americane, ma molto veniva anche importato direttamente dagli Stati Uniti, sebbene solitamente attraverso paesi terzi. Il giro dell'oca in pratica. Senza questo tipo di supporto americano, nel 39-40, Hitler poteva solo sognarsi la guerra lampo e la maggior parte dei mezzi di trasporto e degli aerei di Hitler venivano prodotti dalle filiali tedesche della General Motors e della Ford. Alla fine degli anni 30, queste imprese avevano gradualmente rimosso la produzione civile per impegnarsi esclusivamente sullo sviluppo di apparecchiature militari per l'esercito e per la Luftwaffe. Questo mutamento, richiesto se non ordinato dalle autorità naziste, non solo era stato approvato, ma anche attivamente incoraggiato dai centri direzionali delle imprese negli Stati Uniti. La Ford di Colonia procedeva non solo a fabbricare mezzi di trasporto per materiali ed uomini, ma anche materiali bellici e parti di ricambio per la Wehrmacht. La nuova fabbrica della Opel nel Brandeburgo avviava la produzione dei famosi autocarri Blitz, sempre per la Wehrmacht, mentre la fabbrica principale di Rüsselheim produceva principalmente per la Luftwaffe assemblando aeroplani come lo Junkers 88, il Wunderbomber, il bombardiere meraviglioso, la spina dorsale della Luftwaffe durante tutta la Seconda Guerra Mondiale. Allora, a un certo punto General Motors e Ford insieme si aggiudicavano non meno della metà dell'intera produzione tedesca di carri armati, mentre la ITT aveva acquisito il 25% dei titoli azionari della Focke-Wulf e così contribuiva alla costruzione di aerei da guerra. Forse i tedeschi avrebbero potuto assemblare veicoli ed aerei senza l'assistenza americana, ma la Germania necessitava disperatamente di materie prime che non aveva, come gomme e petrolio, ed erano indispensabili a combattere una guerra che si basava su mobilità e velocità e ovviamente le corporation americane corsero in soccorso. La Texaco aiutava i nazisti ad immagazzinare carburanti e per giunta, quando la guerra in Europa era sul punto di scoppiare, grandi quantità di gasolio, lubrificanti e prodotti petroliferi venivano spedite via mare in Germania non solo dal Texaco ma anche dalla Standard Oil attraverso i porti della Spagna. Tra l'altro la Kriegsmarine veniva rifornita di carburante dal petroliere texano William Rhodes Davis. Allora, negli anni 30 la Standard Oil aveva assistito la IG Farben nello sviluppo dei carburanti sintetici come alternativa al petrolio, di cui la Germania doveva importare ogni singola goccia. Secondo Albert Speer, dopo il conflitto, diceva che senza certi tipi di carburante sintetico realizzati con l'aiuto delle industrie americane, Hitler non avrebbe mai preso in considerazione l'invasione della Polonia. I tedeschi stessi ammisero che senza il piombo tetraetile che serviva come additivo per i carburanti fornito dagli americani, il concetto stesso di Blitzkrieg sarebbe risultato inconcepibile. Questo magico ingrediente era stato sintetizzato da un'impresa, la Etil GmbH, affiliata dal trio formato da Standard Oil, IG Farben, partner tedesca della Standard, e General Motors. La Blitzkrieg prevedeva come dire, attacchi da terra e dall'aria perfettamente sincronizzati e questo e per questo servivano comunicazioni perfette, che furono fornite dalla filiale tedesca della ITT, che forniva la maggior parte della strumentazione, mentre l'altro stato dell'arte tecnologica essenziale agli scopi della guerra lampo era fornito dalla IBM attraverso la sua filiale tedesca, la Dehomag. Secondo Edwin Black, le conoscenze della IBM permettevano alla macchina bellica nazista di acquisire dimensioni, velocità ed efficienza e concludeva che la IBM aveva apportato il lampo alla guerra della Germania nazista. Allora, l'entusiasmo non era neppure mascherato il 26 giugno 1940. Una delegazione commerciale tedesca a New York si riunì, organizzò una cena per festeggiare le vittorie dell'esercito tedesco nell'Europa occidentale. Molti importanti industriali presenziarono, compreso James D. Mooney, direttore responsabile delle operazioni tedesche della General Motors. Cinque giorni più tardi, sempre a New York, venivano nuovamente celebrate le vittorie tedesche, questa volta ad un party offerto dal boss filofascista della Texaco, Riber. Tra i leaders delle imprese americane erano presenti James D. Mooney e il figlio di Henry Ford, Edsel, che fece una bruttissima fine qualche anno più tardi. Dopo la guerra sarebbe diventato di uso comune in Occidente affermare che il successo inaspettato dei sovietici contro la Germania nazista era stato possibile grazie all'assistenza massiccia degli americani. È diventato di moda, siamo sinceri, e che senza questo aiuto l'Unione sovietica non sarebbe sopravvissuta all'aggressione nazista. E oggettivamente questa è un'affermazione molto poco attendibile. Punto primo, l'assistenza materiale americana prima del 1942 era insignificante. E questo ben dopo che i sovietici, senza l'aiuto di nessuno, avevano fermato la Wehrmacht alle porte di Mosca, chiaro? E avevano scatenato la loro prima controversiva. Quando i russi bloccarono la Wehrmacht alle porte di Mosca e impedirono la conquista di Leningrado, non c'erano aiuti né americani né inglesi. Chiaro? Allora, in secondo punto, l'aiuto americano non andò mai, e sottolineo mai, oltre il 4 o 5 per cento della produzione totale sovietica. Ovvero sia il 95 per cento dello sforzo bellico sovietico era made in USSR. E il 95 per cento dello sforzo bellico sovietico era tutto autarchico, era tutto made in Soviet, made in Russia. E il 5 per cento dello sforzo bellico sovietico fu coperto dagli aiuti americani. C'è una certa differenza, diciamo. Allora, sebbene, ma ce l'è a dire una cosa, che questo aiuto fu un contributo assolutamente cruciale per ribaltare una situazione critica. Questo è indubbio. Terza cosa, gli stessi sovietici dettero l'avvio alla produzione di tutti gli armamenti leggeri e pesanti di alta qualità che avevano consentito il loro successo contro la Wehrmacht, cioè insomma, i Yakov, i Katsajak, Lavochkin, i bombardieri, gli Sturmovik, i T-34, i KV-1, gli Zweroboy e i Carri Stalin erano tutti made in Russia. Per ultimo, il tanto pubblicizzato aiuto land lease fornito all'Unione Sovietica veniva in larga misura neutralizzato e possiamo dire vanificato dall'assistenza non ufficiale, discreta ma veramente importante, fornita ai tedeschi, nemici dei sovietici, dalle fonti delle imprese americane. Nel 1940-41 le compagnie petrolifere americane avevano aumentato le loro esportazioni di petrolio verso la Germania e quantità rilevanti venivano inviate alla Germania nazista attraverso stati neutrali, ovviamente realizzando forti profitti. Com'era la storia del nazismo e del fascismo contro il capitalismo? Vabbè. La percentuale americana delle importazioni tedesche di olio per la lubrificazione dei macchinari, il assolutamente indispensabile, aumentò rapidamente dal 44% del luglio 1941 al 94% del settembre 1941 e lo storico tedesco Tobias Jersak, un'autorità nel campo della storia di questo ramo poco studiato della storia, insomma praticamente un esperto in questioni tecniche di questo tipo, dicevo, Tobias Jersak spiega che senza il carburante fornito dagli Stati Uniti l'aggressione tedesca contro l'Unione Sovietica non sarebbe stata possibile. Oibo, io sono una testa di cazzo qualsiasi, ma se è vero quello che dice il signor Jersak mi sa che qualcuno dovrebbe stare zitto e vergognarsi, ma mettiamola così. Neppure la dichiarazione di guerra agli Stati Uniti rescisse i legami. Le affigliate tedesche delle corporation americane non venivano assolutamente confiscate dai nazisti e non veniva rimosso nemmeno il completo controllo di queste imprese da parte delle case madri. Fino alla disfatta della Germania nel 45, al di là di come le società capogruppo avrebbero fermato dopo la guerra, ad esempio rispetto alle strutture della Ford e della General Motors, l'esperto tedesco Hans Helms dichiara che neppure una volta durante il regime di terrore, i nazisti si sono impegnati in un tentativo anche il più insignificante di variare la situazione proprietaria della Ford e della General Motors. E' della Ford e della Opel e neppure dopo Pearl Harbor a Ford veniva requisito il 52% delle azioni della Ford Werk a Colonia e la General Motors rimaneva l'unica proprietaria della Opel, secondo le testimonianze di Bill Stein. In più, gli americani conservarono una dimensione di controllo a volte considerevole sulle loro affigliate tedesche, anche dopo la dichiarazione di guerra della Germania contro gli Stati Uniti. Esistono risultanze che le centrali delle imprese negli Stati Uniti e le loro filiali in Germania rimasero in contatto le une con le altre, o indirettamente via filiali nella Svizzera neutrale o direttamente tramite la rete mondiale dei sistemi moderni di comunicazioni. E quest'ultimo sistema di comunicazione veniva fornito dalla ITT in comunicazione in collaborazione con Trans Radio, una joint venture tra ITT, RCA e le imprese tedesche Siemens e Telefunken. A. I nazisti non solo permettevano ai proprietari americani di conservare le loro strutture e le loro filiali in Germania ed esercitarne anche in una certa misura il controllo amministrativo, ma la loro influenza, l'influenza tedesca ad esempio nella produzione Opel e Ford, rimaneva minima. Dopo la dichiarazione di guerra della Germania contro gli Stati Uniti, i membri della dirigenza americana sicuramente si ritirarono dalle scene, ma i manager presenti in Germania che riscuotevano la fiducia dei capi negli Stati Uniti, in genere conservarono le loro posizioni autorevoli e continuarono a condurre gli affari, perciò tenendo sempre presenti gli interessi delle case madri, delle imprese e degli azionisti americani. A. Bello eh? Per quello che riguarda la Opel, il quartier generale della General Motors in America aveva mantenuto l'effettivo controllo totale sui dirigenti di Russellside. Questo scrive lo storico americano Bradford Snell che negli anni 70 ha dedicato la sua attenzione a questo tema, ma i cui riscontri sono stati contestati da General Motors. Un recente studio della ricercatrice tedesca Anita Kugler conferma il resoconto di Snell, fornendo maggiori dettagli e maggiore sfumature al quadro presentato. Dopo la dichiarazione di guerra della Germania contro gli Stati Uniti, la Klüger scrive che i nazisti assolutamente non crearono alcuna difficoltà alla dirigenza della Opel e solo il 25 novembre 1942 Berlino nominava un servizio di controllo alle strutture produttive del nemico. Cioè quasi un anno dopo la dichiarazione di guerra, dieci mesi dopo la dichiarazione di guerra. Fatto passare un po' di tempo eh? Ma il significato di questa procedura risultò essere puramente simbolico. I nazisti semplicemente desideravano assegnare un'immagine tedesca ad un'impresa che sarà posseduta dal General Motors, cioè la Opel, per tutto il corso della guerra. Allora, presso la fabbrica tedesca della Ford, la Ford Werk, Robert Schmidt, sicuramente fervente nazista, durante la guerra operava come General Manager e le sue prestazioni erano tanto soddisfacenti sia per l'autorità di Berlino che per i dirigenti della Ford in America. Messaggi di approvazione e di congratulazioni recanti la firma di Edsel Ford gli venivano regolarmente recapitati dalla casa madre della Ford a Dearborn. Allora, i nazisti erano entusiasti del lavoro di Schmidt. In opportuna occasione lo avevano gratificato del titolo di leader nel campo dell'economia militare, perfino quando, mesi dopo Pearl Harbor, erano stati imposti controlli a sovrintendere gli impianti della Ford a Colonia. Schmidt aveva quindi preservato e conservato le sue prerogative e la sua libertà di azione. Allora, anche l'IBM, sotto controllo dell'asse in Germania, Francia e Belgio e in altri paesi, risultava, come dire, tutt'altro che traumatizzata dall'opportunità, occupazione tedesca. I nazisti erano molto meno interessati alla nazionalità dei proprietari o all'identità dei manager che alla produzione, visto che dopo il fallimento della loro strategia di guerra in Unione Sovietica stavano sperimentando la necessità sempre crescente di una produzione massiccia e di mezzi di aerei e mezzi da trasporto. Allora, ci sono degli esperti che ritengono che le migliori innovazioni tecnologiche della General Motors e della Ford, per scopi belli, siano principalmente andate a tutto vantaggio delle loro filiali nella Germania nazista. Ad esempio, citano gli autocarri della Opel con tutte le ruote motrici che sienono rivelati particolarmente utili ai tedeschi nel fango del fronte orientale e nei deserti del Nord Africa, così come i motori per il Mesher Smith 262, il primo cacciareazione che veniva assemblato sempre dalla Opel e sempre a Rüsselsheim. Allora, la Ford Werk nel 1939 aveva sviluppato un semi-cingolato che veniva chiamato Moltier, Mulo, che era prodotto in gran numero. La Ford Werk aveva creato anche una società di copertura che produceva, la Arendt Game Beach, che produceva equipaggiamento bellico e veicoli e, nello specifico, parti lavorati per aeroplani. Ma Ford afferma che questo era stato fatto senza che ad Airborne, al quartier generale della Ford, si sapesse qualcosa. Verso la fine della guerra, la fabbrica della Arendt era coinvolta nello sviluppo top secret delle turbine per i missili V2 che devastavano Londra e Anversa. E la ITT, anche dopo per l'Arbor, continuò a fornire sistemi avanzati per le comunicazioni e tramite, come dire, le strutture produttive dell'ATT in Germania e quelle presenti in Svezia, Svizzera e Spagna e che fornivano alla Germania, alle forze armate tedesche con geni bellici di avanguardia. Charles Higam entra nei particolari. Dopo per l'Arbor, l'esercito, la marina e la versione tedesca stipularono contratti con la ITT per la fabbricazione di centraline telefoniche, telefoni, suonere d'allarme e tutta una serie di dispositivi vari, dispositivi d'allarme per gli attacchi aere, strumentazione radar, 30.000 spolette al mese per proiettili d'artiglieria che venivano fabbricate a Dresda. Spolette che arrivavano a 50.000 al mese nel 1944. Per giunta la ITT forniva componenti per le bombe a razzo che cadevano su Londra, celle al selenio per raddrizzatori a secco, strumentazioni radio di vario tipo, apparecchi per le comunicazioni per il rafforzamento di campo e senza queste forniture di materiali cruciali sarebbe stato impossibile per l'aviazione tedesca eliminare truppe americane e britanniche, per l'esercito tedesco combattere contro gli alleati, per l'Inghilterra venire bombardate o per le navi degli alleati venire attaccate sul mare. Non sorprende che le industrie, le sussidiarie tedesche delle industrie americane fossero considerate come pionieri dello sviluppo tecnologico tedesco da parte dei pianificatori dei ministeri economici del Reich e dalle altre autorità naziste coinvolte nello sforzo bellico. Sempre Edwin Black afferma che la tecnologia avanzata dell'IBM rispetto per le schede perforate, che è la tecnologia che ha preceduto il computer, ha permesso ai nazisti di automatizzare la persecuzione degli ebrei e delle minoranze. L'IBM presumibilmente aveva consentito la valutazione degli inimmaginabili numeri dell'olocausto perché aveva fornito al regime di Hitler macchine calcolatrici ed altri strumenti che venivano utilizzati per generare le liste degli ebrei e delle altre vittime che venivano designate per la deportazione e per registrare i detenuti dei campi di concentramento e seguire il lavoro schiavile. Sempre Edwin Black. I critici della ricerca di Black sostengono che i nazisti avrebbero potuto essere altrettanto efficienti senza la tecnologia dell'IBM, ma insomma anche questo esempio dell'IBM spiega come le corporation americane abbiano procurato ai nazisti sempre tecnologie avanzate e non si sono curate troppo di come veniva usata. Allora, in pratica le controllate tedesche delle corporation americane continuarono a produrre profitti in elevata misura, insomma a rendere un sacco di soldi, i cui utili venivano spediti anche in America tramite ovviamente la Svizzera. L'IBM prosperava in Germania e nei paesi occupati grazie alle vendite ai nazisti di strumenti tecnologici richiesti per identificare, deportare, ghettizzare, schiavizzare e alla fine del percorso sterminare milioni di ebrei europei. Questo è più o meno quello che dice Irwin Black. Cioè, in pratica, gli americani si fecero un bel pacco di soldi, sempre alla faccia del discorso di Hitler e del nazismo contro, come baluardo contro la deriva ipercapitalista. Ah, vabbè, l'influenza delle corporation si fece sentire anche a livello governativo. Secondo l'esperto tedesco Hans Helms, Bernard Baruch, un consigliere di alto grado del presidente Roosevelt, aveva dato l'ordine di non bombardare certe fabbriche in Germania o di bombardarle non in maniera pesante. È difficile sorprendersi che le affiliate delle imprese americane cadessero in questa categoria ed infatti, mentre il centro storico della città di Colonia veniva raso al suolo in ripetuti raids di bombardamenti, la grande fabbrica della Ford in periferia poteva godere della reputazione di essere il posto più sicuro della città durante gli attacchi aerei, sebbene alcune bombe ovviamente cadessero occasionalmente sulle sue strutture. Ripeto, il libro a cui fare riferimento per queste opinioni espresse da me e dall'amico Gianluca Bertozzi vengono dal libro di Jacques Powell's Profit über alles, le corporation americane e Hitler, edito da La città del sole. Allora, è una teoria molto interessante che va molto ben valutata però, perché si tratta di una cosa discussa e molto discutibile. Le ricerche che sono state fatte a questo proposito sono state criticate, sono state valutate, criticate in vario modo così, ma sappiamo bene che il denaro non ha mai puzzato per i capitalisti. il denaro non puzza, il denaro piace, il denaro smuove tutto, il denaro può tutto, non stiamo a girarci intorno. Risulta comunque sia interessante la questione che mentre si focalizza sempre, si ciurla sempre certe persone, ciurlano sempre nel manico con la storia, ah, senza gli aiuti americani l'Unione Sovietica sarebbe crollata. Ripeto, se si fa un conto, se si fa una statistica, se si fanno dei calcoli anche abbastanza semplici, si scopre che gli aiuti americani all'Unione Sovietica, gli aiuti bellici americani all'Unione Sovietica coprirono massimo il 10% del fabbisogno dell'Unione Sovietica e tutto il resto era made in Russia. E questo qui, se si fa un attimo di conto, c'è. Vero, gli americani fornirono semilavorati, gli americani fornirono locomotive, fornirono cibo, fornirono vestiario, fornirono aiuti, assolutamente in dubbio, anche gli inglesi, ma, ricordiamoci una cosa, gli inglesi, a questo proposito, ricevettero il doppio degli aiuti inviati ai russi, ma nessuno dice che gli inglesi sono stati salvati dall'intervento americano, chissà come mai. Il libro di Powell, del quale ho parlato con l'amico Bertozzi, è molto interessante perché fornisce una chiave di lettura non convenzionale, ma che va valutata con estrema attenzione, perché innanzitutto si va a scatenare il classico pregiudizio anti-americano, perché si sa bene che se i nazisti non stanno simpatici, gli americani vengono odiati un po' da tutti e oggettivamente, siamo sinceri, ci hanno messo molto dell'oro per raggiungere questi risultati, ma questo è un discorso che esula dall'ambito di questo libro. In pratica, secondo il libro di Powell, e oggettivamente penso che sia una valutazione piuttosto interessante, e qui vi chiedo un aiuto, cioè ragazzi, si tratta di trovare delle corrispondenze a quanto abbiamo trovato io e l'amico Bertozzi. Che l'economia americana sia stata, spesso volentieri, che l'economia tedesca scusate, sia stata supportata dagli americani anche dopo lo scoppio della guerra è una voce che gira da tanti anni. Questi ricercatori che ho citato, Black, Uno su Tutti e Powell's, parlano di questa, come dire, parlano di questo giro dell'oca di soldi fatto dalle corporation americane. Io personalmente ritengo che sia il caso di dare un'occhiata e di pensarci un po' sopra. Quindi io vi chiedo, se avete retto questi quasi 50 minuti di video, vi chiedo semplicemente di fare una cosa. Date un'occhiata ai dati, controllate un attimo anche voi, ditemi che cosa ne pensate, ditemi se avete dei dati, delle cose che possono, come dire, confutare questa tesi ardita, ma conoscendo certe simpatie e certa mentalità, diciamo, se non è vera è ben inventata. Ripeto, una cosa che mi fa veramente specie, allora, fatemi essere cattivo. Allora, c'è tanta gente che in buona fede crede che Hitler e Mussolini siano stati, come dire, baluardi contro la mentalità capitalista, commerciale, mercantile, contro la tirannia del grande capitale non vi viene un pochettino da ridere dopo aver ascoltato quanto abbiamo detto io e l'amico Bertozzi? Cioè, oggettivamente, fascismo e nazismo non fecero altro che assecondare il grande capitale. Fascismo e nazismo bloccarono gli stipendi, vietarono gli scioperi, impedirono agli operai di essere poco più che servi. Eh, e venite a dire che il nazismo e il fascismo protessero il popolo dalla schiavitù del capitale? Ricordiamoci una cosa, nell'Italia fascista gli stipendi rimasero bloccati per più di dieci anni con gli operai che nel 1939-1940 facevano la fame perché non riuscivano più fisicamente a campare. Gli stipendi nell'Italia fascista erano bloccati da più di dieci anni mentre i profitti dell'industria privata, dei grandi capitalisti, dalla Fiat, Alfa Romeo, eccetera, eccetera, eccetera continuavano a crescere col beneplacito del regime. I nazisti? Iden. Per prima cosa, sindacati? Raus. Per seconda cosa, comunisti in campo di concentramento. Per seconda cosa, le persone che la pensavano diversamente? Campo di concentramento. Osavi protestare perché faticavi troppo? Campo di concentramento. Osavi protestare perché ti avevano decurtato la paga? Campo di concentramento. E venite a rompere i coglioni con i gulag di Stalin? Non è che ci fosse una gran differenza, siamo sinceri. Cioè, venite, mi vengono a raccontare, mi parlano di Mussolini e di Hitler come baluardi contro lo strapotere capitalista, contro le demoplutocrazie giudaico-massoniche? Questo libro, Profit Überalles, può essere discutibile, e sicuramente lo è, ma è interessante perché certi dati e certe cose fanno capire molto sulla mentalità di chi faceva affari con la Germania nazista e sul sistema economico stesso della Germania nazista. Quindi, cari signori, ripeto, io e l'amico Gianluca Bertozzi abbiamo buttato il pietrone nello stagno. Sono 52 minuti di video, ragazzi. Quindi, cari signori, adesso tocca a voi fornirmi, come sempre, tramite i commenti, le vostre valutazioni, le vostre idee, le vostre considerazioni, anche le vostre critiche e le vostre confutazioni. Però, ripeto, il primo che mi parla, nuovamente, di Hitler e Mussolini come baluardo risuardo contro la tirannia capitalista, scusate se mi metterò a ridergli in faccia. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione, scusate per la conferenza, per la tirata di quasi un'ora, ma era un argomento interessante, perché, diciamoci la verità, io e l'amico Bertozzi, mettiamola così, ci divertiamo a fare i cattivi quando si tratta di parlare di certi argomenti che demoliscono certe convinzioni. Poi, che vi devo dire, nemmeno Stalin era un santo, tutt'altro, e lo sappiamo fin troppo bene, però, come dire, non è che tra il sistema staliniano di controllo delle masse e quello nazista ci fosse questa gran differenza, tutto sommato. Tutto qua. Quindi, ripeto, aspetto le vostre considerazioni, aspetto le vostre obiezioni, aspetto le vostre critiche, aspetto i vostri, come dire, le vostre aggiunte a questo video. Quindi, ripeto, cari signori, ci sentiamo, scusate se mi sono dilungato, ma l'argomento, secondo me, meritava parecchio. Quindi, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.